BELLA A TUTTI DA PORKMODZ Grazie suino Grazie mille suino Andiamo 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 Volevo proprio questa Allora dove stanno sti maledetti Li prendiamo subito Li voglio prendere stavolta eh Non voglio fare fail Li dobbiamo acchiappare subito Allora dove si trovano? Veloce 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 Uuuuh BOOM L'abbiamo preso uno Dai è così però siamo scesi giù Dobbiamo risalire Allora via 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 Da dove si risale? Da lì Dai 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 veloce X80 proto Allora saliamo qua sopra E già siamo partiti bene Siamo tantissimi raga Ci mancano solo due Abbiamo vinto Mamma mia Via 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 Che lo dobbiamo vincere questo round Allora vai Ok Dove stanno sti maledetti? Dov'è? 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 Oh È da queste fa Dove sta? No è vinto è vinto Dai è così raga Dove sta? Dov'è? Vinci Oh non appare Vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Mettiamoci subito la maschera Veloci 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 Ok Qua bisogna stare veramente attenti Intanto andiamo giù qua Perfetto Allora C'ho veramente paura Guardate sto suino Che suino strano È pericolosissimo È Veramente troppo pericoloso Aspettate Andate voi No 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 Mannaggia Non ci voleva Non ci voleva suini Madonna però Ha fatto strike Quello lì Guarda sto suino qua Guardate questi suini Selvatici Che stanno a far Ma tutti sono suini Guardate Tutti quanti Grandissimi Eh Questo è morto Due sono morti Eccoli qua Boom E boom Eh rimane solo questo Eh purtroppo Regà È andato perdente Questo round Eh vabbè Perdente Prossimo round Ok Terzo round E li dobbiamo fare i secchi Via via La voglio io L'X80 proto Poi perché hanno messo Che si chiama X80 proto Quando ci hanno messo Anche la reaper Mi sembra che la reaper Quell'auto là Allora Uuuuh Suini selvatici Mannaggia Aspettate Aspettate Dove Sì 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 Aspettate No 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 Non ce la deve fare Assolutamente Lui eh Mo ci mettiamo qua E aspettiamo Oh Mannaggia Questo Via 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 Due Due ne ho presi Mi sa che ne ho presi due Allora Si è ridotto Queste due persone In poltiglia Ok Quello che vorrebbe citare Mi sa Dai che rimane Rimangono altre due Ne rimangono Uh Ok preso Ancora vivo E ancora vivo Quello lì Uh lo becco io No 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 perché sono cascato Comunque lo faranno secco gli altri Sicuramente è difficile questo L'ETS Andare a prendere le armi Madonna Allora Rimane solo uno là sopra Non so se ce la fanno loro a fallo secco Ma ora vediamo Si mi sa l'hanno preso No ancora no Saliamo qua sopra Dai dai L'hanno preso L'hanno preso Mi sa Eh si Vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Voglio prendere le armi Stavolta non andiamo avanti Aspettate Che metto una mia schierina Ok Che l'ho selezionato come primo completo Credo così almeno subito me la mette Ogni volta l'ETS leva le maschere Allora qui dobbiamo studiare A parte che siamo partiti che abbiamo vinto Quindi lo vinceremo per forza Perché abbiamo notato che Nella parte delle macchine È più facile vincere Invece nella parte dei parkouristi È molto difficile Di solito è dalla parte dei parkouristi Che si vince È molto buono questo l'ETS Mentre stavo parlando Stavo quasi beccato è qui Dai Dobbiamo capire come fare Il problema è che se io vado avanti Dopo tutti spingono avanti E questo è un bel problema Perché nessuno va avanti Aspettano il caposuino Che vada avanti E vabbè regà Facciamo così Tanto non so se andrà vinto o no Noi ce la rischiamo al volo Ce la rischiamo al volo Uuuu Mamma mia Però siamo ancora vivi Aspettate Se gli frego la macchina Se gli frego la macchina Ah dai 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 No 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 mi uccide Mi uccide È troppo tardi Eh vabbè regà Abbiamo rischiato Però avete visto quanto è difficile Eh la miseria che ha ciorrato Uno dei suini Quanti Perché poi ci hanno i guanti gialli Ci avevano Sono due suini con i guanti gialli Danne il turbino Vai Che forse te ce la fai Yolo writer Dai Dai No Sì Oh mio dio Un grandissimo Grande Prosegui Prosegui No Mamma mia Ce l'aveva quasi fatta Per un pelo Aspetta rimane B28 Crezzi Stai molto attento B28 Crezzi Madonna però che ha fatto la sopra Gabriola Eh vabbè regà E' andato perdente Prossimo round Ok Nuovo round Prendiamo questa qua rossa Via 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 Voglio io Ok Andiamo Dobbiamo capire come Anzi qua non dobbiamo capire niente Tanto si sa che li famo secchi Però Dall'altra parte del parkour Devo capire come arrivarci Oh ecco Già l'hanno fatto Perché mi deve spingere a me Questo non ho capito Allora andiamo Andiamo questo famo secco Ok Siamo ancora vivi Perfetto Allora Questo sta posizionato qua Per qualsiasi cosa Ghiro Dobbiamo uccidere a Ghiro Dai Andate avanti Ah ecco Ecco Sì No 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 Troppo Che accelerazione che c'ha però Buona Eh perché esploso Eh Cos'era Ha preso l'elicottero Chi Ah uno della mia squadra Addirittura ha preso l'elicottero Vincitore Ok Sesto round Dobbiamo capire come fare Se riuscissi arriva a prendere le armi Ah prima mi sa che c'è un punto Per cittare Ma con le auto È riuscito a prendere l'elicottero Non lo so Aspettate un attimo Ok Come possiamo fare Allora andiamo 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 dai Questi stanno posizionati Perché Mettiamoci un attimo qua Perfetto Guardateli Dobbiamo capire Come fare Che è troppo difficile Cioè Aspettate Ci mettiamo qua Vediamoci la furtiva Questi due partiranno Perché Richie non parte Perché quello Ammazza Quello sta fermo là Raga Potevo andare Possiamo andare Possiamo andare suini Via 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 Eh quello Ma aspettava Cioè non ci riesco Ok raga Guardiamo un po' Yolo Che cosa combina Dai No 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 Sì sì È Yolo È Yolo Ok mettiti qua dentro E analizza la situazione Che forse ce la fai Io non ci sono mariato Fino a qua Dai Dai Oddio Perché è salita questa Ah perché No L'hanno preso O è cascato da solo Non lo so raga Mannaggia Perdente Prossimo round Ok Questo non so se è round Della vittoria Potrebbe essere comunque Peccato che Non sono riuscito A completare Quella parte Da arrivare ai buzzard Però È stato vinto lo stesso Allora Via È veramente Troppo difficile Ok l'hanno già preso Aspettate Oh Sì 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 Questo lo beccamo Perfetto Allagato Non lo so raga Penso di averlo preso Allora Dai 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 Bella questa Questo colore che c'ha Dai Andiamo Andiamo qua sopra Che ce la dobbiamo fare Ok Andiamo su Andiamo a uccidere tutti Non so se è l'ultimo round Non ho idea Andiamo 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 Ha preso ricottolo qualcuno Che diamine c'è là sopra Non lo so Aspettate Oh Ma che è questo Dai Non c'è Devi provare A prendere le armi Non c'è Io proprio provare Ok Meno male che l'ho fatto secco io All'ultimo Mi sa che abbiamo vinto Non so se è vinto tutto l'LTS Vediamo un po' Non si sa Vincitore Vincitore tutto l'LTS Ragazzi Se vi è piaciuto questo LTS Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E seguitemi su Instagram Saluto tutti questi suini Bella Grazie a tutti Grazie a tutti